Siamo in onda, attenzione, ho una news incredibile, questa ragazza mi sta spifferando una cosa, spiffera? La laureata è di là, Francesca, eccola di là, noi siamo gli invitati Gli imbucati? Gli imbucati, gli imbucati da dove siete? Allora, veniamo da Villafranca, abbiamo gli imbucati a Villafranca Francesca, andiamo a scoprire che è Francesca allora, quindi voi non ci trate niente, paga tutto Francesca? Vieni, fai la carellata degli imbucati, non si è accorta di niente Non si siamo accorti, eccolo, il papà di Francesca? No, papà, scusate, ho sbagliato papà Il papà, ah, ma sei tu, lui è famosissimo, è lui, è lui, è grande La festa è di mia figlia, eh, sì, bisogna che, è lei la protagonista della serata Ti ricordi il nome? Il nome di Francesca? Pensando se si ricorda il nome Francesca? Eh, Francesca In cosa sei laureata? In traduzione e... Simultanea! No, che simultanea, che non mi viene, che è troppa lunga Interpretazione e traduzione Perfetto, tu lo sapevi? No! Ma che schia, lo zio? No, no Amico del papà! Amico del papà, eh, eh, cos'ha? Tutti amici di Villafranca, originari di Villafranca, eh Doc È l'unico, va bene, allora andiamo a cercare Francesca Va bene, cerchiamo Francesca, attenzione, 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 signori, signori Stiamo cercando Francesca Chi ha visto Francesca? Avete visto Francesca? Sei Francesca da qualche parte? Chi ha la faccia da Francesca? Alzi la mano Che fai, ti asteni? Si astene questa, si astene Non ha interpretato giusto la cosa Perché tu sei laureata in? Lingue, interpretareato e traduzione Ah ecco, facciamo un applauso ragazzi Perché il papà non si ricordava esattamente È un classico, è un classico Era difficilissimo da ricordare Abbastanza Ok, allora sei qua con gli amici, quelli sono tutti imbucati all'altro tavolo, quello di prima Sì sì, sono tutti imbucati in realtà, conosco manco mezzo No, non è vero, non è vero Ok, quindi là il papà fa una festa a sé praticamente A parte diciamo, sì, è più emozionato lui, festeggia più lui che io alla fine Sì sì, è mitico, mitico Questo che è il fidanzato? Sì Ah ok, sei fidanzato, te lo ricordi? Sì sì, me lo ricordo Doveva essere così Doveva essere così, no, giusto? Ok, gli altri sono tutti amici Vuoi farmi una carellata? C'è la lauri La lauri, la laurata? La lauri, non ancora Non ancora Quindi è lauri, lauri La lauri, quasi laure Sì, è lauri per quello Poi abbiamo? L'Ane L'Ane, 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 anche lei deve laurearsi più avanti Con la lauri Con la lauri, poi? Il moroso, il ragazzo dell'Ane Vabbè, è veloce, veloce E poi no, Alex si chiama Poi abbiamo la mia amica Valestina Aspetta, ecco, fate quelli fidanzati voi Fate quelli Eh, loro sono, sì, la parte dei impegnati Impegnata, poi cosa abbiamo? La mia migliore amica Melanie Melanie, Melanie, di da dove? Melanie, Melanie, dovevi cazzo vieni? Da Milano, da Milano Da Milano, ecco, perfetto Si vede che la conosci bene Pure da Milano, no Vede conosci, ok, lui? E Vincenzo Vincenzo che è? Vincenzo è il mio amico degli alimentari Ah, ok Da, eh, tantissimo tempo Davide Davide Dalle superiori L'amico dei superiori, esattamente L'alcolista nonno, è vero L'alcolista anonimo Poi abbiamo in fondo Poi tutti amici di mio fratello diventati anche miei amici Quindi abbiamo Nicola, mio fratello e Sara Il fratello, il fratello, il fratello, ecco Il minimo Si, si, si Si vede il fratello Però sono più bella io È più bella lei, dice Confermi? Conferma, conferma Fratello umile, fratello umile Ha detto, conferma S'hai visto il fratello? Vieni qua, fratello, un attimo Che facciamo un confronto Un faccia a faccia Mettiti Non c'è confronto Ecco, attenzione Allora, facciamo un primo piano Signori da casa Allora, per il fratello A chi piace il fratello? Fa schifo Cioè, non piace a nessuno Cioè, veramente Un successone Ecco, per la invece Per la nostra Sorella Un applauso E' questa, eh? Ok No, ma non è No, ma non è No, ma non è